Settimo giorno di protesta a Gela da parte dei lavoratori dell'indotto dello stabilimento Eni. La settimana è cominciata così come era terminata. Blocchi stradali sulla Gela Catania, Gela Licata e Gela Vittoria. I dimostranti inoltre hanno iniziato a presidiare l'ingresso della stazione di rilancio del gas libico che arriva in Sicilia attraverso il metanodotto sottomarino Green Stream. Noi a difenza di quello che la gente può pensare, noi non vogliamo ammortizzatore sociale, ma noi chiediamo il nostro diritto al lavoro. Noi vogliamo quello che prevede la Costituzione, il lavoro, perché è il nostro diritto. Togliendoci il lavoro ci stanno togliendo la dignità di essere uomini. Noi siamo qua dalle 5 di mattina, una manifestazione pacifica senza nessuna cosa. Noi, come diceva l'altro mio collega, noi siamo oggi qua, solo divendichiamo il posto di lavoro. Noi vogliamo lavorare, tutta questa gente che tu vedi, anche se venendo di qua della Gela e Vittoria, hai trovato tanta gente messa ai blocchi che richiede solo e esclusivamente il lavoro. Voi continuate a protestare perché giustamente oramai siete sull'Astrico. Questa mattina un altro sit-in di protesta a Pacifico perché sottolineavamo, voi volete soltanto una cosa, il lavoro. Esatto, noi vogliamo solamente andare a lavorare a Cassa di integrazione come ammolità, non lo vogliamo. Perché con questi soldi non possiamo vivere. Siamo sull'Astrico, siamo a soldi prestati e così non si può andare avanti. Ma c'è stato l'impegno anche da parte dell'amministrazione comunale, regionale, adesso si attende invece il Via Libera da parte del Governo nazionale. Cosa regionale, governativo, quello che dite voi, che ci interessa a noi? A noi ci interessa che ci portano una risposta positiva e dire a tutti gli operai che lavoravate là, chi ha poco, chi ha sai, andare a lavorare e basta più. Questo solo ci interessa a noi. Si attendono dunque risposte concrete da Roma e da Palermo. È iniziata infatti una settimana decisiva per le sorti della raffineria di Gela e di 2.500 lavoratori tra diretto e indotto. Oggi alle 16 a Palermo il Governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, coordinerà un tavolo tecnico convocato per determinare il possibile ricorso alla Cassa di integrazione in deroga per le maestranze gelesi. Vi parteciperanno ENI, sindacati confederali, prefetto di Calzanissetta e funzionari regionali. Gela oggi si è mobilitata ed escesa in piazza per lo sovero generale proclamato dal Consiglio Comunale in difesa della raffineria dell'ENI. Una folla oceanica ha invaso il corso principale della città. Il corteo è partito da Via Palazzi nei pressi dell'ospedale Vittorio Emanuele per concludersi in piazza Municipio. C'erano i lavoratori dell'indotto e del diretto che da più di una settimana presidiano le vie di accesso alla città. C'erano i sindaci dei comuni del comprensorio, il clero gelese, gli avvocati del foro di Gela, gli studenti, i commercianti, i docenti, tutti insomma negozi chiusi. Oggi il territorio sta rappresentando delle difficoltà reali perché oggi sono scesi in campo libri professionisti, sono scesi in campo operai, dei studenti, diciamo tutta la città è presente e non solo la città di Gela ma anche la città dei territori vicini. Quindi è un intero territorio che soffre, che sta chiedendo una cosa molto semplice. La possibilità di vivere e per poter fare questo vuole avere regole certe. Queste regole le può dare solo il Governo centrale che finalmente deve prendersi carico di un'intera collettività. Qua abbiamo bisogno di risanamento ambientale, abbiamo bisogno di una rindustrializzazione. 60 anni fa qualcuno ci ha imposto un modello economico che non era naturale per il nostro territorio. Dopo 60 anni decidono di staccare l'interruttore lasciando praticamente un intero territorio senza il suo cuore pulsante economico. Questo non è possibile, lo sviluppo del territorio passa anche dalla pianificazione e dall'organizzazione. Il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Acia. È solamente una mobilitazione generale per una città che ha bisogno di risposte e per una città che sappiamo che ha tantissime risorse e che deve solo trovare il modo giusto per portarle avanti. Sicuramente il problema principale è l'occupazione, lo sappiamo tutti. Abbiamo dei lavoratori, ecco che i lavoratori dell'Indotto sono solamente una piccola parte di gente che sta vivendo dei problemi occupazionali ma sappiamo che molte imprese si stanno chiudendo sappiamo che molti negozi sono in difficoltà e diverse attività commerciali. Tutti in famiglia viviamo un dramma o di salute o di occupazione. Quindi è l'ora di dare delle risposte, è l'ora che il Governo ci aiuti ci aiuti per delle bonifiche, ci aiuti per una ristrutturazione e una riconversione della città. Domani intanto a Roma è prevista una riunione al Ministero del Lavoro dove sono stati convocati il Sindaco di Gela e il Governatore della Sicilia Rosario Crocetta per definire misure straordinarie sull'uso degli ammortizzatori sociali. Ieri sera a Palermo, proprio con Crocetta, i sindacati hanno concordato i provvedimenti da chiedere anche per quei 70 operai che da sette mesi non hanno più né lavoro né indennità di sostegno. Per aiutare le imprese che chiedono la cassa integrazione sarà chiesta la decontribuzione della quota addizionale al loro carico ed il ricorso ai prevenzionamenti agevolati. Infine sarà lanciata la proposta di affidare al Governo la gestione dell'area di crisi di Gela attraverso la nomina di uno commissario straordinario. Anche le donne in corteo. Siamo presenti un movimento rosa per dire sì alla lavoro e per garantire occupazione e serenità ad un intero territorio. La dignità di Gela si deve riprendere prima o poi non se la possono portare via così per il lavoro. Stiamo scendendo proprio per protestare, per andare avanti per i nostri diritti, per i figli perché sono già in mezzo alla strada chiunque e andiamo avanti, andiamo avanti, fine in fondo, non oggi. Continuiamo. Ci hanno abbandonati tutti e noi siamo commercianti e stiamo morendo di fame. Siamo tutte le mamme a nostro dietro con il nostro movimento perché continueremo fino alla fine ad andare avanti. In piazza anche gli studenti. Gli studenti gelesi sono in piazza perché vogliono che il territorio di Gela si sveglie e quando usciremo dalla scuola avremo anche noi uno sbocco occupazionale. Vogliamo che lei non ci abbandoni e che ci sia sempre il lavoro. I rappresentanti della sezione marinai d'Italia di Gela. Noi siamo sempre solidali con tutto, specialmente quando si tratta del lavoro per i nostri compaesani. Questa dovrebbe essere la giornata della svolta con la speranza che questo serva a qualcosa per quanto riguarda i lavoratori dell'indotto e i lavoratori del diretto. Speriamo che qualcuno dei politici si passi la mano sulla coscienza che facendo parte anche del governo Renzi che prenda tutto in considerazione. Open Day ieri e oggi presso la sede centrale di Via Butera dell'istituto comprensivo Gela e Butera. Il dirigente scolastico Agata Guelli, i docenti e il personale ATA accolgono alunni e genitori rendendo nota l'offerta formativa della scuola. Attraverso i laboratori evidenziano esperienze musicali, pratiche artistiche e tecniche e con i laboratori linguistici si spiega come conseguire certificazioni Cambridge e Delf. La nostra scuola si è rinnovata, potremmo dire nel look, perché grazie a un FESD abbiamo ripavimentato, sono state tinteggiate tutte le aule, sono state messe le porte nuove, è stato rifatto il tetto, è stato installato un impianto fotovoltaico. Quindi è una scuola che si rinnova, offre spazi ampi, luminosi, con laboratori innovativi. E naturalmente, dovendo fare appunto quello che viene chiamato Open Day, cioè dire questa scuola che si apre, si apre al territorio, perché così è anche lo spirito della legge 107, ma non c'era bisogno di una legge che ribadisse che la Mattei si apre costantemente al territorio. Questa appunto è una legge sine qua non della nostra scuola, il rapporto costante con i genitori dei nostri ragazzi e con quanti appunto preferiranno questa scuola rispetto alle altre, perché non solo offre degli spazi straordinari per poter lavorare, ma soprattutto capacità, professionalità e ancora una volta passione e cuore. Con una sede completamente rinnovata da una recente ristrutturazione è il nuovo centro sportivo di atletica leggera, Mattei Sport. La scuola è pronta ad accogliere le nuove sfide della formazione per preparare gli studenti al loro futuro con competenze adeguate in linea con i principi dell'Unione Europea. Ieri Gela è scesa in piazza per rivendicare il diritto al lavoro, dunque contro la chiusura della raffineria Eni. Anche i Forconi hanno partecipato al corteo promosso dal Consiglio Comunale in difesa di un territorio. Qual è la posizione dei Forconi al momento attuale, in merito a quello che sta accadendo a Gela? Allora io dico una cosa, intanto che se l'Ene sta dichiarando che sta rispettando il protocollo di indesa, io evidentemente penso che qualcuno quel protocollo l'ha fermato. Ora che si rispetti il protocollo e soprattutto una cosa penso che i gelesi debbano pretendere, l'operazione quella che secondo me vale di più, i gelesi devono pretendere al tavolo di partecipare a questo tavolo di trattative. Perché io devo dirti per DNA ormai dei sindacati non mi fido più. Se vedo sfilare qui i partiti e i sindacati che poi ci hanno portato a questo punto, mi spieghi qualcuno perché dovrei farmi difendere da chi mi ha portato al disastro Gela. Quindi se c'è una situazione che va corretta è proprio quella. Questa manifestazione di ieri era la manifestazione di un'insalata di tutto quello che si poteva mettere insieme. C'era il PD, io ho visto il PD, ho visto i sindacati, ci sono l'attuale amministrazione che è formata dai grillini. Però oggi penso che mettere tutto insieme non porta da nessuna parte. Forse bisognerebbe difendersi con tutti quelli che sono danneggiati di queste situazioni. Dico anche un'altra cosa che Gela non è solo l'impresa Eni, Gela è anche agricoltura. Bisognerebbe mettere insieme forse tutta l'economia di questo territorio perché sarebbe il caso di farlo. E dico che forse diventiamo tutti un po' più forti perché alla fine se l'Eni dichiara quello che ha dichiarato, se l'agricoltura sta andando come sta andando, è tutta un'economia che purtroppo è incatenata e che non si muove e non riesce a sbloccarsi. Qui c'è bisogno di un governo regionale che governi, di un comune che si faccia rispettare e soprattutto c'è bisogno di un governo nazionale che non si metta in ginocchio con l'Eni. Ferro, ieri però è tutta la città che c'è se in piazza. C'era il clero, c'erano gli avvocati, le donne, gli studenti. Dobbiamo dire chi sono i colpevoli di questa situazione che c'è oggi perché se non identificiamo tutti quelli che hanno portato a questa situazione io credo che non ci capiamo, non risolveremo mai, cioè non usciremo da questo tunnel perché per uscire dal tunnel bisogna dire forse è il momento che tutta questa classe operaia che è sulle strade, che sta facendo i blocchi stradali pretenda di partecipare a quelli con una rappresentanza, con una delegazione, pretenda di partecipare ai tavoli perché altrimenti se dobbiamo aspettare le soluzioni da chi oggi le soluzioni al tavolo le ha discusse, le ha ragionate, le ha sottoscritte, ma non le ha rispettate io credo che ci prendiamo in giro. Penso che sia l'ennesima manifestazione che poi alla fine non serve a nulla. Qui c'è bisogno che questa popolazione al di fuori dei partiti, tenendo fuori i partiti, tenendo fuori i sindacati, si faccia rispettare in modo diverso. Come vede il futuro di Gela? Se non si arriva ad una manifestazione vera, di popolo, quella che, ripeto, metta fuori i responsabili di questa situazione, possiamo anche dirci nel 2012 ci fu quell'operazione. Lo dico con grande umiltà, noi sbagliamo perché ci sedemmo al tavolo e ancora una volta ci facemmo prendere in giro da quella classe politica di allora. Se qui non viene fuori la Sicilia e non aspetta che qualcun altro, delegando i sindacati, delegando la politica, che qualcun altro gli risolve i problemi, io credo che noi non usciremo da questo disastro. Si chiama Verginità rapita e il libro di Ismele Selmanai Leba presentato oggi nella Lomagna dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo di Gela. L'incontro rientra nelle manifestazioni promosse in occasione del Giorno della Memoria, un impegno per il futuro, costruire un cammino senza crimini. Il mio paese, Albania, gli albanesi, durante l'armistizio, la Seconda Guerra Mondiale, non hanno consegnato nessun ebreo e nessun soldato italiano, perché sono rimasti in Albania tantissimi soldati italiani e i tedeschi li cercavano per mandarli ad Auschwitz, a Mauthausen, non lo so dove. E invece la popolazione albanese, secondo la nostra tradizione secolara, la Bessa albanese, non ha consegnato nessuno. Tutti questi soldati li ha vestiti con i vestiti da contadini e li hanno nascosti dentro casa. Io di là nel libro racconto la storia di un soldato siciliano, precisamente per questo ho voluto fortemente che il libro si pubblicasse proprio in Sicilia, da una casa editrice siciliana, a Bonfiraro, anche per questa ragione. Attraverso la cultura e la pubblicazione dei libri che poi parlano di queste storie e della storia in generale, è chiaro che noi andiamo verso quella che è la nostra libertà, la libertà di tutti quanti. Tutto quello che accade nel mondo e le guerre che accadono, accadono sempre perché l'ignoranza impera e quindi chi sa più degli altri può soffocare l'ambizione di molte persone che vogliono emergere in ogni caso. I saluti iniziali sono stati fidati ai presidenti del club service e al dirigente scolastico Grazio Di Bartolo. Questi ragazzi attraverso questo messaggio devono capire che cos'è la tolleranza, che cos'è il rispetto per la vita e quindi il rispetto reciproco. È un messaggio che la scuola dà, che va oltre i contenuti, oltre la trasmissione degli argomenti. Quindi un messaggio di etica che si spera venga acquisito e quindi venga anche messo in pratica per avere un mondo civile e un mondo di pace. Dobbiamo necessariamente trasmettere dei messaggi di speranza ma ricordare anche quello che è successo, lo sterminio di 6 milioni di ebrei. Per noi è un messaggio molto importante, deve passare tra le nuove generazioni perché abbiamo bisogno che i ragazzi ricordino questi momenti tragici della nostra storia. Sicuramente è una pagina da dimenticare. Però abbiamo voluto cogliere l'occasione del libro di una scrittrice albanese per ricordare anche il genocidio nel Kosovo intorno agli anni 80-90. Bisogna abituare i ragazzi a pensare in modo universale, a pensare in modo che siamo tutti uguali, senza colore, senza religione, senza politica perché la politica è quella che rovina tutto. I ragazzi sono il fulcro del nostro futuro e chiaramente devono sapere dato che non sono stati testimoni dell'olocausto e di tutti i grandi genocidi che ci sono stati nel mondo, almeno per fortuna loro, perché abbiamo avuto delle generazioni che sono state fuori da guerre e che sono cresciute in bacia. Ma devono sapere che in effetti l'uomo non deve scagliarsi contro l'uomo. L'uomo deve essere al di sopra, non deve avere mortificata la sua dignità. e queste sono giornate che servono proprio per la formazione dei nostri giovani. Che oggi veramente è la giornata del ricordo della testimonianza di un qualcosa che è accaduto 70 anni fa però che purtroppo si ripete. E infatti noi non abbiamo, non ci siamo solo fermati oggi e non ci fermeremo solo a parlare di un tipo, di un genocidio terribile che ha calpestato i diritti di una razza intera ma anche abbiamo, cioè allarghiamo il nostro sguardo ad altri fenomeni del genere, altri genocidi. Ha moderato i lavori la giornalista Fabiola Polara. La lettura dei brani e l'esecuzione con il violino è stata curata dagli alunni della seconda B della liceo Eschilo di Gela. Sono state esposte durante l'iniziativa opere di Michele Alba e Benedetta Caccamo. Liberi consorzi e città metropolitane sono gli argomenti trattati ieri durante l'incontro a Palermo tra l'assessore agli enti locali Luisa Lantieri e i componenti del comitato Gelensis Populus. Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla vicenda che sembra aver avuto una battuta d'arresto a causa dell'approvazione del bilancio regionale. Per quanto riguarda il percorso di adesione già è tutto pronto io ho firmato i due decreti da portare in giunta per i nuovi territori. Indubbiamente tutto questo deve essere accompagnato da una legge perché bisogna stabilire a priori i criteri e tutto quello che c'è nell'organizzazione interna perché si passa da un'ex provincia di Caltanissetta in una città di una città metropolitana o viceversa si poteva andare anche verso ad un nuovo libero consorzio però bisogna stabilire il patrimonio di quella città bisogna stabilire le strade la lunghezza delle strade come si ci deve organizzare voi sapete che ci sono le scuole provinciali ci sono degli uffici perciò questo secondo me deve essere tutto determinato priormente a norma di legge leader del passaggio dei comuni di Gela Niscemi e Piazza Marina prevede il ridisegno dei confini geografici dei nuovi liberi consorsi e delle città metropolitane che sarà effettuato attraverso un atto di giunta e portato in aula per la provozione in parallelo sarà preparato uno studio relativo al passaggio delle competenze in ordine al personale le scuole la sanità le partecipate e quant'altro dalla libero consorzio riuscente cioè quelli di Caltanissetta e Denna alla città metropolitana di Catania verso la quale questi tre comuni intendono migrare e immediatamente dopo l'approvazione del bilancio alla regione il primo disegno di legge che approderà in assemblea è proprio quello che riscrive la legge sui liberi consorsi e le città metropolitane numerosi riunioni incontri tavoli tecnici ma sostanzialmente quando Gela approderà alla città metropolitana di Catania ci ha confermato che il tempo tecnico dell'approvazione della finanziaria regionale prenderebbe teoricamente al massimo tutto il mese di febbraio potrebbe anche risolversi prima e quindi ci ha detto che nella prima settimana di marzo lei si attiverà alla cremente con il presidente dell'assemblea regionale Ardizzone per portarlo immediatamente ci ha garantito che il primo disegno che sarà esaminato in assemblea sarà proprio questo il deputato regionale del partito democratico il gelese Peppe Arancio i cittadini possono stare tranquilli perché tutto ciò che è stato deciso ha delle determinanti dei tempi e quindi andremo verso l'obiettivo si inasprisce la vertenza a Gela il ricorso della cassa integrazione in deroga fino al 31 marzo per i dipendenti dell'indotto Eni in attesa dell'inizio dei lavori per la conversione green della raffineria che abbandona il petrolio per produrre biocarburanti investendo 2,2 miliardi di euro deciso mercoledì scorso a Roma tra regione comune e ministeri dello sviluppo economico e del lavoro non piace affatto a chi protesta pannicelli caldi anche i sindacati CGL Cisle Will hanno espresso uno giudizio fortemente negativo sull'accordo raggiunto le contestazioni sindacali riguardano i tempi troppo lunghi per la ripresa dell'attività produttiva la vertenza complessa sin dal suo avvio scrivono in una nota i segretari provinciali Ignazio Giudice Emanuele Gallo e Maurizio Castania è stata generata dai ritardi governativi e viene ulteriormente complicata dalle scelte dei governi nazionale e regionale in merito alle politiche industriali di fronte ad una situazione senza precedenti che colpisce la città ed il suo comprensorio CGL Cisle Will chiedono che si applichi in tutte le sue parti il decreto area di crisi complessa emanato quasi un anno dietro e si rifiutano di sottostare alla logica dei due pesi e due misure e questa mattina si tinta di protesta dinanzi al centro Oli di Contrada Piana del Signore loro credono che col contendino che ci hanno dato a Roma dicendo che ci danno qualche mese di ammortizzatore sociale noi ci leviamo dalle strade la protesta continua continua fino a quando non andremo a lavorare finché non ci sono i primi soldi per andare a lavorare noi siamo da una strada all'altra e non smettiamo più i tre mesi di cassa integrazione si potrebbero anche accettare ma però a pensare che alla scadenza dei tre mesi di cassa integrazione si dovrebbe prendere il ciclo produttivo di andare tutti a lavorare ma se non si va a lavorare non sono i tre mesi che danno il contendino ai lavoratori per accontentare i lavoratori si debbano aprire i cantieri se no di qui non disposta più nessuno noi siamo costretti o anche facciamo che alziamo ma anche il tiro più forte questa è una lotta per la città di Gela perché sappiamo bene che se gli operai e tutte le persone che lavoravano nell'indotto spendevano e facevano girare l'economia se questo non succede significa che Gela muore a iniziare dai negozianti dagli artigiani e dai liberi professionisti io invece in televisione voglio fare un appello a tutti gli imprenditori di Gela perché gli ricordo che gli operai siamo in protesta siamo senza lavoro ma le aziende sono loro preside lei scende in campo questa mattina a difesa della scuola per tutelare il diritto degli studenti a poter effettuare le loro lezioni in ambienti confortevoli in primo luogo riscaldati nei mesi più freddi certo abbiamo questo disservizio che è iniziato giorno 11 e oggi ne abbiamo 29 quindi 15 giorni perché abbiamo questo guasto che non si è risolto io ho fatto le mie richieste al consorzio al consorzio di provinciale e non ho avuto nessuna risposta abbiamo noi denunciato già questa cosa a giorno 12 subito appena si è verificato il guasto poi il 13 abbiamo fatto un sollecito e non avendo avuto risposte mi sono persino rivolto al prefetto specificando a lui insomma che c'è questa situazione di disagio per i ragazzi quindi ho mandato questa comunicazione il 20 un ulteriore sollecito il 22 non ho avuto nessuna risposta ieri ho convocato l'assemblea dei genitori ho coinvolto loro ho convocato anche il consiglio d'istituto speriamo insomma che questa cosa si risolva il più presto possibile nel frattempo per diciamo fronteggiare quelle che sono le contestazioni dei genitori dei ragazzi ho fatto tarolo ridotto però nonostante ciò insomma è una situazione insostenibile è vero che la Sicilia è un posto abbastanza caldo ma è anche vero che le aule sono vuote non sono quindi non sono riscaldate a prescindere quindi almeno nei mesi più freddi cioè gennaio febbraio e marzo insomma sarebbe cosa buona che fossero riscaldate sì necessariamente perché tutto sommato insomma la temperatura all'interno è inferiore a quella dell'esterno perché dopo le feste di Natale le aule vuote insomma sono a prese di freddo è necessario e importante che ci siano i condizionatori attraverso le nostre telecamere lei può approfittare per lanciare un ulteriore appello nonostante insomma la tempestività nelle richieste sì io mi auguro insomma che gli enti preposti cercano di affrontare questa problematica e risolverla il più presto possibile un po' di freddo un po' di freddo Grazie a tutti.